Ti interesserebbe vedere qualche risultato ottenuto grazie allo yoga facciale? In questo video voglio mostrarti delle testimonianze, dei risultati, ottenuti dopo solo due mesi di pratica. Iniziamo con la prima. Questa ragazza vedeva il suo viso scavato e svuotato e voleva riempirlo. Si è rivolta a me, chiedendomi aiuto, e dopo soli due mesi di yoga facciale, questo è il risultato. Qui vediamo la differenza nelle labbra. Devi sapere che ci sono degli esercizi specifici solo per le labbra, che le rendono più voluminose e sporgenti già dopo poche ripetizioni, come ad esempio queste nella foto. Questo è un altro esempio di viso svuotato, che grazie allo yoga facciale ha riacquisito volume, pienezza e anche rughe distese. Ti piacciono questi risultati? Se vuoi vederne di altri, scrivi qui nei commenti e nei prossimi video ti farò vedere ancora qualche risultato ottenuto grazie allo yoga facciale. Grazie. Grazie. Grazie.